Buongiorno, buon sabato, rieccoci qui con la lettura del giornale. Oggi una riflessione che mi tocca veramente il cuore. Questo bell'articolo di Antonio Politi sulle vicende di Ferrara e soprattutto sul rapporto educativo e della società. Con alcuni passaggi notevoli, come quello dell'alleanza oramai perduta tra famiglia e scuola sull'educazione. Oggi si dice, i genitori cercano più l'audience, cercano più l'apprezzamento dei figli che non il gran lavoro di educatori. Che non cioè il loro futuro, il loro benessere, la loro vera felicità che non è nell'avere tutto subito ma nel saper costruire una personalità. E non basta essere da soli, ci vuole l'aiuto della scuola, ci vuole l'aiuto della società. E soprattutto, dice Politi, ci vogliono dei valori da trasmettere, un'eredità, qualcosa che vada avanti e che sia basata su una solidità di valori. E questo, dice Politi, è quello che viene meno, è che è l'elemento fondante che manca e che non può dare solidità. Perché siamo così travolti dai nostri diritti, dalla pretesa dei diritti, che ci dimentichiamo dei valori che fanno la vita. Cosa ne pensate? Vorrei aggiungere una piccola cosa a proposito della gelata che ha colpito Milano ieri. Perché qui sul Corriere ci si è uno scambio di accuse reciproco. Tra l'opposizione che dice che la gestione è stata ridicola e il comune che si difende a spada tratta dicendo che è stato un evento eccezionale. Quello che mi colpisce dalla politica è questo. Non c'è mai nessuno che si scusa e mai nessuno dall'altra parte che apprezza il lavoro fatto dai concorrenti per lo che sia un'opposizione di governo o al contrario. Insomma, sembra che ogni cosa debba essere per forza una rissa, una lite. A me così non piace. E a voi? Volevo ringraziare a ZZ, alias Lady Z, per questo bellissimo articolo che parla di Snapchat e che è ricchissimo di suggerimenti su account da seguire. Molti li condivido. Ottime cose. Grazie ancora. Li condivido nel senso che sono già loro follower e quindi condivido perfettamente quello che è stato scritto. Grazie ancora. Buona giornata.